E mi hai fatto il budget? Sai come farlo il budget famigliale? Famigliale? No, no, no. Vai. Ho capito? E mi hai fatto il budget? Sai come farlo? Oggi ti spiegheremo come fare. Subito dopo, la nostra... Sigla! Ben trovati sul nostro canale YouTube, come sempre siamo Mirko e Gloria e siamo la famiglia Minimalista e oggi abbiamo un impegno importantissimo per le vostre finanze. Oggi vi spiegheremo come fare il budget familiare. Esattamente, budget familiare, come accennato prima della nostra sigla, vi spiegheremo come farlo, vi spiegheremo quale file utilizzare e soprattutto come dividere le vostre finanze per poter ottenere risultati migliori dal punto di vista economico. Quindi, o se siete in difficoltà perché siete tante persone a casa con un'entrata giusta, equa o anche bassa, vi aiuteremo a migliorare la vostra situazione economica ottenendo anche dei risparmi e su questo... E dei risultati anche buoni. Esatto, ci siamo aiutati noi stessi prima con fogli di calcolo Excel, con altri canali YouTube, tra cui Fabio Marchione, che cito sempre perché merita di essere citato per l'aiuto che dà alle persone che lo seguono. Quindi vi spiegheremo come farlo. Partiamo subito dalla nozione più importante, probabilmente. Come farlo. No, sul come farlo la nozione più importante, ovvero che prima bisogna risparmiare. Perché questo, amore? Spiegalo tu ai nostri amici. Allora, la prima cosa da fare quando vi arriva lo stipendio è mettere una percentuale da parte, in un fondo a parte, proprio che voi non vedete proprio, quindi state a posto. Perché prima si risparmia, poi si spende. Quella è la regola principale. Esattamente. Da questo ci colleghiamo subito a una cosa. Chi siamo noi e come facciamo questo? Noi siamo la famiglia minimalista, ci hanno detto spesso, ah no, voi parlate più di risparmio, di crescita, sì è vero, noi parliamo di risparmio, ma perché? Perché per noi è strettamente collegato il minimalismo al risparmio. Diciamo che è una conseguenza al risparmio alla fine. Esatto, forse è una conseguenza del minimalismo, il risparmio, o il minimalismo è una conseguenza del risparmio, comunque mettetela come volete, secondo noi vanno molto a braccetto queste due cose. Però c'è da dire che non tutti i minimalisti sono risparmiatori, questo c'è da dirlo. Esatto, qui infatti questa è un'opinione nostra, personale, che per noi se uno è minimalista dovrebbe riuscire, quantomeno, o provarci a ottenere dei risultati ottimi anche sul piano del risparmio e della finanza personale, del familiare. Esatto. Quindi come facciamo noi il budget familiare? Abbiamo mano a mano nel tempo implementato e modificato le nostre abitudini familiari, personali, abbiamo implementato e modificato il nostro budget, come costruire il nostro budget familiare. Siamo arrivati a un punto che ci risulta molto comodo effettuarlo così. La prima cosa che facciamo è dividere le entrate in percentuali. Che significa amore mio? Significa che noi dividiamo il nostro budget in percentuali, a seconda di quello che dobbiamo fare durante il mese. E tipo, ad esempio, lo spieghiamo subito. Tipo, per esempio, ci sono le spese quelle fisse, quindi c'è il fondo, spese fisse. E sono, la nostra impostazione, ecco, mettiamo così, povero ognuno può essere diversa perché magari c'è l'affitto più alto, l'affitto meno basso, un mutuo più basso, un mutuo più alto, non c'è affitto, non c'è mutuo, c'è casa dei nonni, quello che volete. E comunque la nostra percentuale è il 40% delle nostre entrate, non di uno stipendio. Entrambe. Noi siamo in due, abbiamo due entrate, quindi il 40% di quelle entrate è destinato alle spese fisse, ovvero bollette, mutuo, affitto, assicurazioni della macchina, tutto quello che è fisso, anche spesa proprio alimentare e chimica. Noi abbiamo anche spese delle carte. Noi abbiamo le spese delle carte, quindi anche quello rientra. Quello non l'avevamo detto, infatti siamo ovviamente io e lei sposati e due gatte, per chi ci segue già lo sa, ma comunque per chi ci vede la prima volta, questo è il nostro nucleo familiare adesso. Quindi 40% per le spese fisse in cui rientrano tutte quelle che non si può fare a meno di spendere al mese. Anche il veterinario delle gatte, per esempio, quella è una spesa fissa, no? Diciamo che è destinato a spese mediche delle gatte, che può succedere, non tutti i mesi, però comunque ci sta una medicina medicinale, un qualsiasi cosa, diviso anche c'è, ve lo faremo vedere dopo, c'è il file con tutte le spese anche per le gatte. Dopodiché passiamo al 30% del budget mensile, delle entrate, che va per i risparmi. Allora, queste, ripetiamo sempre, sono percentuali nostre, modificabilissime, però quello che consigliamo è di più o meno mantenere queste percentuali, perché aiuta molto anche a capire come non spendere troppo in alcuni punti. Ovviamente il 30% dei risparmi va in un fondo a parte che non si vede. Deve essere un fondo fantasma. E' anche difficile da entrarci, eh? Esatto, tipo un libretto postale che ha sì la carta, ma non puoi vagarci, ecco. Con la carta no. Esatto, non puoi vagarci, quindi è più difficile da raggiungere quel fondo e quindi è più fantasma di altri, magari. Sconsigliamo il materasso. Però, ecco, il budget per i risparmi in un fondo, in una carta a cui è difficile accedere. Perché è anche una cosa mentale, nel senso che se noi non abbiamo la disponibilità, tutta la disponibilità sul nostro conto iniziale, no? Sul nostro conto personale, è più facile che non li spendiamo perché appunto ce l'abbiamo in un conto che non vediamo. Esattamente. Poi abbiamo il 20% per le spese personali, ovvero ognuno di noi ha un conto proprio, ognuno di noi ha uno stipendio proprio, ognuno di noi ha delle spese personali, quindi un paio di scarte, le ciabatte, l'orroggio, la collanina, qualsiasi cosa che riguarda la sfera personale, quindi non è una spesa fissa, non è una spesa della famiglia, quindi... Un familiare che riguarda tutti, poi vabbè magari una volta uno dice no vabbè lo compro io sto oggettivo, cioè non è quello, però comunque quello che riguarda la sfera personale è il 20% del budget. Quindi è 40, 30, 20. E poi manca quel 10% che noi abbiamo cominciato ad attuare da adesso praticamente, perché ancora non eravamo riusciti a farlo, parliamo del fondo d'emergenza. Esatto, emergenze imprevisti, quindi che significa? Cioè l'imprevedibile che succede sempre, tutti i mesi. Esattamente, come spiega Fabio Marchione, c'è l'imprevisto mensile, c'è sempre... Si, se non te il rubinetto, si rompa la macchina, se rientra sotto una soglia, mettiamo 100 euro, si paga con il budget delle spese fisse, perché comunque si prevede anche un imprevisto mensile, quindi ci sta. Se supera, in questo caso abbiamo portato l'esempio di 100 euro, quindi oltre i 100 euro si va ad intaccare il budget degli imprevisti, proprio che nasce con quella funzione. C'è un imprevisto con una spesa abbastanza alta, sei comunque coperto in questo caso. Quindi, ricapitolando, dividere le entrate personali di tutta la famiglia, quindi chiunque abbia un'entrata nella famiglia, c'è uno schemino, vi lascio il file con la divisione in percentuali, così è più pratico per voi. Ovviamente sono tutte modificabili, sono strutturate soltanto sulle nostre esigenze in questo momento, poi ognuno le modifica come vuole. Il consiglio è dividerle in 40 per le spese, 30 per i risparmi, 20 per le spese personali e 10 per gli imprevisti. Ma la cosa buona, secondo me, è proprio fare dei fondi a parte, perché poi questi fondi, questi soldi si accumulano. Esatto. Perché diciamo che, metti in caso che uno mette 200 euro al mese a testa, no? Per le spese, quelle della casa fisse. Questi 200 euro si cumulano ogni mese, perché non è che tutti i mesi abbiamo da pagare le bollette o tutte le bollette, quindi dopo un po' sarà un budget abbastanza alto, diciamo, da coprire anche eventuali emergenze, diciamo. Come diceva Gloria, quindi dividere in fondi diversi. Noi, per esempio, lo spieghiamo in parole povere, abbiamo il conto personale, che può essere alla posta, può essere in banca, può essere dove volete, quello che avete, va benissimo. Dove avere lo stipendio. Esatto, e tenete là sopra il fondo per le spese personali, quindi 200 euro, quindi il 20%, 200 euro, sì, 200 euro il 20%, quindi mettiamo uno stipendio di 1000 euro, e il 20% va, rimane sulla, là dove vi accreditano lo stipendio eventualmente, o dove tenete di solito il conto personale proprio. Arrivato lo stipendio, abbiamo il fondo a parte una carta su cui versiamo, sia quando arriva il mio stipendio, sia quando arriva quello di Gloria, il 40%, quindi con l'esempio di 1000 euro, 400 euro vanno sulla carta per poter coprire le spese fisse. E come diceva Gloria, quel budget di 400 euro, quindi 800 euro mensili, va a coprire le bollette, va a coprire le spese, la spesa delle gatte, va a coprire la spesa alimentare nostra e dei diversivi e quant'altro, va a coprire tutto quello che è, se avanza ovviamente rimarrà sulla carta del budget del fondo, così da poter essere utilizzata successivamente, magari un mese che arriva l'assicurazione auto, il bollo auto, magari stai un po' più in difficoltà, hai lavorato meno, qualsiasi motivazione, hai già un fondo pregresso che ti è mano a mano aumenta e riesci a coprire tutte le spese. Dopodiché, sempre su un'ipotetica cifra di stipendio di 1000 euro, il 30%, quindi 300 euro, va in uno dei fondi fantasma dei risparmi e 100 euro, in questo caso, quindi sempre su uno stipendio di 1000 euro, vanno nel fondo delle emergenze imprevisti che è un altro fondo a parte, questo era un conto, un libretto, in quel caso, diciamo che anche in questo caso meno è accessibile, meglio è, perché altrimenti la tentazione di tutti andare a prendere i soldi anche dal fondo degli imprevisti c'è sempre, anche se più limitata, perché comunque dividendo così, a parte quello, e poi dividendo così avete comunque le vostre spese coperte diciamo, e imparerete pure, secondo noi, secondo la nostra esperienza, a non spendere più del dovuto, ovvero di quello che avete a disposizione. come funziona il file budget che vi lascio, è molto semplice, lo vedete mentre vi spiego qua, mentre ve lo faccio vedere qua sotto, poi c'è il link in descrizione per poterlo prendere, ci sono tutte le voci di spesa praticamente divise in categorie, non in budget, quindi su questo dovete fare un attimo attenzione, nel senso che la spesa alimentare, queste cose qua, fa parte di un budget, poi al lato scrivete i vari budget che avete disponibili per le spese, se andate mano a mano a scalare le cifre da lì dove avete speso, quindi budget, spesa, fondo spesa, spendete 50 euro di spesa al Conad, per esempio, togliete 50 euro da là, quindi avete sempre sotto controllo, senza dover accedere sempre alle banche online, o andare a fare la stampa al Bancomat, avete sempre sotto controllo quanto avete, cioè ogni singola voce di spesa, divisa per macro categorie, ad esempio spese personali, oppure la spesa alimentare, oppure gatti, animali domestici, oppure l'automobile, comunque trasporti in generale, perché comunque c'è anche magari chi prende il treno, che ha solo la macchina, chi ha il motorino, quindi costi di carburante, abbonamenti, biglietti, quello che sia, che riguarda, e tutte queste varie voci di spesa, ovviamente all'interno c'è ogni singola voce, quindi carburante, treno, motorino, per ogni singola categoria ci sono le voci varie, poi c'è scritto altro, magari in un mese c'è una cosa in più che avete speso, che non rientra nelle classiche categorie, comunque c'è gas, elettricità, acqua, condominio, tutto quello che rientra nelle spese, affitto mutuo, quello che sia, va semplicemente compilato con la parte di spese preventive, come vedete qua c'è la colonna delle spese preventive, quindi ipotizzate di spendere 200 euro per la spesa, 100 euro per gli animali domestici, 100 euro per quella, fino a arrivare al totale del vostro budget, poi mano a mano che andate a spendere, ed è facile perché non è che dovete spendere, ho speso il 14, devo trovare la colonna A4, dove è il 14, no, c'è la voce, scrivi più 10 euro benzina, senza scrivere benzina sotto la voce di benzina, più 10, poi la portata più 20, e così via, vi fa la broma inatomatica, e noterete che c'è la colonna con la differenza o l'eccesso rispetto a quello che avete preventivato e quello già speso, e anche questo aiuta molto a tenere sotto controllo il budget anche di quella singola voce presente all'interno del totale mensile per esempio, e poi c'è il riepilogo finale annuale. Detto questo ti lascio a te la parola sui benefici, quindi concludiamo questo io, sui benefici di fare un budget familiare. Secondo me ci sono tanti benefici, uno tra questi che comunque si comincia a risparmiare personalmente, ma anche la famiglia comincia a risparmiare, perché se comunque tu suddividi il tuo budget, i tuoi soldi in più fondi, alla fine quei fondi crescono, perché non è che tutti i mesi abbiamo le stesse spese, o comunque non è che tutti i mesi abbiamo i stessi imprevisti, quindi mano a mano comunque si cumulano, e sei anche più tranquillo sinceramente, è una sensazione secondo me di pace, non lo so, di serenità mentale, finanziariamente ci sta. La sicurezza anche di poter affrontare pericoli o problematiche che si possono presentare in qualsiasi momento dell'anno, del mese, della settimana, del giorno, sai benissimo che puoi affrontare quella problematica. E ti aiutano poi a non fare debiti. Esatto. A non stare sempre con l'ansia, con l'acqua, con l'optia, c'è una vacca, 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 c'è una vacca. E poi arriva sempre qualcosa che devi pagare e non ti sei ricordato. Che il famoso finanziamento che poi vai a ripagare con il 180% rispetto a quello che hai preso effettivamente non lo devi fare più perché sei riuscito, invece di pagare la rata mensile e dare più interessi che altro, metti via e il finanziamento ce l'hai in automatico. C'è poi da solo. Anche semplicemente con il 30% di risparmi al mese significa veramente poco rispetto magari a quello che fa. Poi è ovvio, magari c'è chi ha un affitto più alto rispetto a noi o chi ha spese fisse molto più alte perché magari se ho in 5 in famiglia lavora uno da solo, è ovvio che il 30% di risparmi per questa persona, per questa famiglia sarebbe un po' troppo alto e il 40% di spese fisse sarebbe troppo basso, quindi magari che cosa si va a fare? Si può andare a abbassare al 10% anche i risparmi, ricordate il minimo al 10% da togliere subito e alzare quindi di un 20% le spese fisse, quindi da 40% a 60% di ciò che avete. Cioè la prima cosa da fare quando arriva lo stipendio fate un bonifico, un giroconto, prendete i contanti e li mettevi nella mattonella, fate quello che volete però toglieteli. Alla carta o comunque il libretto, quello è, al fondo per risparmi così non li vendete proprio. Fate quello che volete, mettetevi nella mattonella, nel materasso, dentro, non lo so, dentro il vaso delle piante di gloria, se volete ripresto le piante di gloria le mettete là e poi ci pensiamo noi a gestirvi? No scherzo. E comunque la prima cosa è risparmiare. La seconda è ovviamente affrontare le spese fisse, però prima pagate voi stessi e poi pagate gli altri. Detto questo, penso che siamo stati abbastanza esaustivi in questo video. Speriamo che questo video sia interessato. Interessato? Interessante? Che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi abbia aiutato a risparmiare e a cambiare testa. Esattamente, quindi noi vi ringraziamo per l'attenzione, come sempre vi aspettiamo con il prossimo video. Un abbraccio. E scaricate il coso. Scaricate i file che ho lasciato qua sotto. Gratis. È gratis ovviamente. Dietro compenso a me. Ah no, è gratis. Un abbraccio. Noi vi vogliamo bene. Ci vediamo col prossimo video. Ciao!